Ci ci metteremo in un tuffo, e Nicola darà i voti? Certo, è chiaro. Prima le vecchie, prima le vecchie. Occhio che c'è una macchina, no, c'è una macchina, è tanto uguale, vai, ma quella non è capace di re, eh. Sì, è tanto uguale, vai, ma quella non è capace di re, eh. Perché non è capace di re, eh. Grazie a tutti.